Sicuramente il sistema fieristico è l'avanguardia della trasformazione dei vari settori produttivi. Il progresso, l'evoluzione sono fattori imprescindibili di ogni evento fieristico. Negli anni si è passati da eventi di natura 100% commerciali, dove in qualche maniera l'importante era la sottoscrizione del contratto, a momenti di grande formazione. È un'evoluzione che è costata molto, è costata molto anche dal punto di vista di preparazione dei nostri exhibition manager, ma credo che ormai non si possa pensare a un evento fieristico che non porti in sé anche il progresso di quel settore, quindi tutto quello che è evoluzione legata al settore che quell'evento presenta. Questo vale anche per tutto il mondo congressuale, che ormai sono due mondi assolutamente imprescindibili l'uno dall'altro. Fiere e congressi, non soltanto per l'aspetto infrastrutturale, ma proprio per l'aspetto concettuale, sono sempre più legati.